Mura e camminamento di Ronda, il Museo del Duomo, il Teatro Sociale, Palazzo Pretorio e l'Oratorio del Salvatore. Cinque perle di una collana che adesso tutti potranno indossare comodamente grazie alla Cittadella Card. Dal primo agosto arriva infatti un nuovo modo per scoprire i tesori nascosti della città murata. La Cittadella Card è un biglietto cumulativo grazie al quale si potranno visitare i cinque principali monumenti e musei della città, tutti con una tariffa scontata. Valida un anno, non è nominativa e quindi potrà essere usata da più persone. Un'iniziativa promossa da Historia Travel e dal Comune, un naturale proseguimento del lavoro svolto fino a oggi che presentava al pubblico il camminamento di Ronda come fiore all'occhiello della destinazione turistica. Allo stato attuale e soprattutto con riferimento a un futuro di ripartenza turistica ci si orienta dunque su un'offerta più completa e variegata con l'obiettivo di intrattenere il turista più tempo in città.